cosa stai facendo? guarda che l'uomo! la camera è lì quelli della vita che vorrei i colori sono colori scuri, giusto? si, colori scuri ah, il fondo è bianco quindi niente di troppo bianco io vi ho detto di rimettermi qualcosa di scuro assolutamente via di qua no, va bene via ok, perfetto bomba andiamo... andiamo per te guardiamo eh eh